I carabinieri della compagnia di Augusta nell'ambito dell'attività finalizzata alla prevenzione di reati in genere e anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza hanno eseguito diversi servizi controllando un cospicuo numero di persone e veicoli. Sono molteplici e di varia natura i servizi effettuati dall'arma dei carabinieri che oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica si sono occupati a far rispettare le misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con numerose espressioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento nonché dando altresì impulso all'azione di prevenzione e al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo. Durante i servizi di controllo e vigilanza i carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 467 persone e 282 veicoli eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliarie e contestato violazione al codice della strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. La guida con telefono in cellulare o con veicolo senza revisione periodica per la mancata copertura assicurativa per avere guidato il mezzo con patente scaduta di validità o senza averla mai conseguita. In due occasioni sono stati controvenzionati motociclisti che non indassavano il casco protettivo. Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 15.000 euro, sono stati sottratti complessivamente 45 punti dalle patente di guida e ritirati 7 documenti di circolazione. I militari dell'alicota Redemobile della Compagnia Carabinieri di Augusta hanno segnalato alla Prefettura Redusea un soggetto megarese poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.